Il terremoto della D e la possibilità di una quarta serie regionale per abbattere anche i costi potrebbero spingere alcune società irpine a fare richiesta di ammissione anticipando i tempi sui loro progetti. In questo discorso con molta probabilità potrebbero rientrare Audax Cervinara e Biz Ariano Accadia. La società caudina del Presidente Giordano e quella del Tricolle guidata da De Rosa da indiscrezioni emerse potrebbero anticipare di un anno i loro obiettivi. Una promozione non sul campo che darebbe comunque lustro a due piazze che vivono di calcio e con due tifoserie importanti. I cara da Cioffi e il Silvio Renzulli di Ariano sono da sempre tra gli stati della provincia di Avellino che offrono un grande spettacolo sugli spalti. Per i biancazzurri caudini potrebbe essere un sogno che si realizza dopo anni ad inseguirlo con spareggi persi. Per la compagine del Tricolle il desiderio di tornare in quella categoria in cui in un passato recente si è distinta egregiamente. L'Irpinia potrebbe quindi consegnare tre formazioni alla Serie D con Sant'Omaso, Cervinara e Biz Ariano Accadia.